Alessandro Zunino, amministratore delegato di Edison Energia per AffariItaliani.it. Qual è la strategia di Edison per mettere al centro il cliente? Ci stiamo concentrando prevalentemente su aiutare i nostri clienti ad avere una casa efficiente, comoda, sicura, smart. Quindi stiamo sviluppando una serie di servizi che chiamiamo servizi collaterali rispetto all'energia. che accompagnano la solita, tradizionale fornitura di energie elettriche e di gas che permettono ai nostri clienti di avere un maggior controllo sulla propria abitazione e sugli apparecchi che l'energia la consumano. Faccio un esempio, tra il 60 e il 70% dell'energia in casa è consumata da riscaldamento, per riscaldare può fare freddo, quindi riscaldare caldaia o condizionatore. Uno dei servizi che stiamo lanciando proprio in questi giorni è il servizio My Comfort che punta a installare, manutenere, assicurare, nonché finanziare, una caldaia ad alta efficienza. La stragrande maggioranza del parco di caldaia italiano è abbastanza vecchio, solamente il 20% delle caldaie è a condensazione. Con una nuova caldaia ad alta efficienza si può arrivare a risparmiare anche il 30%. Noi vorremmo che i nostri clienti la caldaia la cambiassero prima di si rompa e quindi cerchiamo di venire incontro con dei servizi di finanziamento, di assicurazione, di gestione o l'inclusi della caldaia per farli risparmiare prima. Lo stesso smartphone sta diventando sempre di più una sorta di centrale di controllo dei propri elettrodomestici e dei consumi energetici e quindi anche questo è qualcosa che va nella direzione del smartphone di cui parlava lei, giusto? Esatto, infatti a marzo di quest'anno abbiamo lanciato un servizio che si chiama Smart Living, quindi diciamo un vivere smart, che proprio attraverso un'interfaccia sul smartphone con l'installazione in casa di alcuni semplicissimi apparecchi che non richiedono di spaccare muri o di modificare l'impianto elettrico, ma sono tutti apparecchi che si inseriscono nelle prese di casa, permettono di creare un sistema smart e quindi attraverso un'applicazione sul proprio smartphone si possono inviare segnali e ricevere segnali dalla propria casa. Questo permette di creare delle condizioni, diciamo quando per esempio si avviene un weekend e si può definire una serie di regole che permettono di mettere in sicurezza la casa oppure ricevere dei segnali quando non si è presente in casa, come allarmi di fumo, allarmi di movimento, sensori di intrusione, nonché il controllo per esempio del termostato intelligente. Altro strumento, così come la caldaia è efficiente, la possibilità di controllarla da remoto e di programmarla in maniera efficiente è un naturale e importantissimo elemento per ridurre di molto la bolletta di casa.